benvenuto e congratulazioni per aver scoperto jeunesse ora sei più vicino di quanto tu sia mai stato a raggiungere i redditi residuali che ti cambieranno la vita dal punto di vista finanziario dal comfort di casa tua tutto quello che devi fare per raggiungere quel sogno e condividere con altri l'opportunità genesse e i suoi innovativi prodotti anti edging che ti consentiranno di avere un reddito part time o di costruire un business full time quanto lontano tu voglia andare e quanti soldi vorrai fare dipendono solamente da te e questo perché il piano compensi genesse è uno dei più redditizi e bilanciati piani compensi esistenti che paga le commissioni ogni settimana non ponendo limiti a quanto puoi guadagnare quindi come funziona ci sono 14 differenti qualifiche che puoi raggiungere nel piano compensi genesse quanto velocemente salirai la scala del successo di genesse e quanti soldi guadagnerai dipendono dal tempo e gli sforzi che investirai nel tuo business in sintesi più promuoverai il progetto genesse e costruirai il tuo team più velocemente crescerai e più commissioni guadagnerai è molto semplice e con giunesse hai sei differenti forme di guadagno vendita al dettaglio bonus acquisizione nuovi clienti commissioni di gruppo bonus per raggiungimento leadership incentivi per l'acquisizione di nuovi clienti e bonus per la qualifica di diamante come si inizia a guadagnare soldi con giunesse ok lascia che ti spieghi quando ti scrivi giunesse e acquisti il kit virtual business da 29 99 ottiene il tuo sito internet personale completo di negozio per le vendite il carrello per gli acquisti un sistema di gestione e tutti gli strumenti per la promozione e la costruzione del tuo team e questo è un punto cruciale poiché solo con l'acquisto dello starter kit sarai un associato genesse questo livello ti permette di cominciare a guadagnare soldi immediatamente da due delle sei forme di entrate il profitto sulla vendita dei prodotti e il bonus per l'acquisizione di nuovi clienti vediamo velocemente di cosa si tratta non appena diventi un associato puoi guadagnare acquistando i prodotti al prezzo d'ingrosso per poi rivenderli a prezzo al dettaglio questo ti consente un margine di profitto del 35% e più su ogni vendita per farti un esempio se acquisti il siero antietà jeunesse luminesce al prezzo all'ingrosso di 83 95 potrai rivenderlo al prezzo al dettaglio di 134 95 guadagnando 51 dollari oppure se non vuoi occuparti direttamente della vendita puoi semplicemente mandare il tuo potenziale cliente sul tuo sito web dove puoi acquistare direttamente dall'azienda e tu guadagni le commissioni fallo 10 volte al mese e guadagnerai 510 dollari extra con un piccolo sforzo oltre a questo puoi generare profitti anche dal programma cliente preferenziale questo è perfetto per familiari ed amici che vogliono soltanto usare i prodotti jeunesse iscrivendo due clienti preferenziali uno nel tuo team di sinistra e uno in quello di destra riceverai un bonus di 50 dollari due confezioni campione gratis di siero luminesce e 60 punti che andranno nel piano compensi ma di questo ne parleremo meglio più avanti questi compensi saranno ripetuti ogni mese finché i tuoi clienti preferenziali continueranno ad ordinare il prodotto ma non è finita qui per ogni ulteriori due clienti preferenziali che iscrivi oltre ai primi due riceverai altri 50 dollari di bonus 10 confezioni campione gratuite di siero luminesce e altri 60 punti e qui arriva la parte migliore puoi continuare a fare questo per sempre il che significa ricevere limitati bonus da 50 dollari i limitati punti extra e limitate confezioni gratuite di prodotto per te stesso come associato potrai inoltre ricevere redditizi bonus per l'acquisizione di nuovi clienti questi bonus sono pagati quando inserisci un nuovo incaricato che acquista uno dei pacchetti jeunesse per iniziare come puoi vedere quando uno dei tuoi incaricati acquista il pacchetto basic da 199 dollari tu ricevi un bonus da 25 dollari se ordinano un pacchetto supreme da 4,99 riceverai 100 dollari se ordinano un pacchetto jumbo tu guadagnerai 200 dollari se un nuovo incaricato ordina il pacchetto ambassador riceverai 250 dollari così immagina se introduci solo 4 persone in jeunesse durante il mese e loro acquistano il pacchetto ambassador tu guadagnerai 1000 dollari ricorda il numero di persone che puoi introdurre in jeunesse è limitato e i tuoi bonus di acquistizione clienti sono anch'essi limitati ma tutto ciò è solo l'inizio e questo perché la vera chiave per creare il business e sviluppare un notevole reddito residuale con jeunesse è costruire il tuo team di vendita diamo un'occhiata a come puoi farlo le commissioni di gruppo sono state pensate per ricompensarti per il fatto di aiutare a dare supporto a quelli che si sono uniti al tuo team più persone incoraggi ad unirsi più li aiuti a raggiungere il successo più guadagni e allora in che modo costruisci il tuo team per poter guadagnare le commissioni? per poter iniziare a guadagnare le commissioni di gruppo per prima cosa devi diventare un esecutivo e non preoccuparti è facile tutto quello che devi fare è accumulare 100 punti in volume personale o PV in un mese è iscrivere due incaricati uno nel team di sinistra e l'altro in quello di destra che a loro volta abbiano generato personalmente 100 PV in un mese durante il primo anno in cui si sono iscritti una volta che ti sei qualificato come executive è il momento per iniziare a costruire i tuoi due team in modo tale che il tuo business inizi a crescere per qualificarti per le altre commissioni lascia che ti mostri come funziona ogni prodotto e ogni pacchetto prodotti ha un valore in punti ad esso abbinato tale valore è detto valore commissionabile o CV quando 300 punti in volume commissionabile sono accumulati in un team non importa quale e se 100 CV sono accumulati nell'altro si genera un ciclo facendoti guadagnare una commissione di volume di gruppo di 35 dollari e potrai continuare a guadagnare 35 dollari per ogni ciclo completato supponiamo che Marco e Rachele decidano di iniziare l'attività in Giunesse posizionerai Marco nel team di sinistra e Rachele in quello di destra Marco acquista il pacchetto ambassador che lo rende attivo per il piano compensi e tu guadagni immediatamente un bonus di 250 dollari per l'acquisizione di un nuovo cliente e per il fatto che il pacchetto ambassador genera un volume di commissioni di 500 CV questi ti verranno accreditati nel volume del team di sinistra ora supponiamo che Rachele acquisti il pacchetto Supreme da 499 dollari ciò significa che anche lei è attiva per il piano compensi e tu ricevi un bonus per l'acquisizione di un nuovo cliente di 100 dollari il pacchetto di Rachele porta 300 punti CV che vanno nel tuo team di destra ma qui viene la parte importante per il fatto che le persone che hai iscritto abbiano attivato la loro posizione tu diventi immediatamente qualificato per ricevere le redditizie commissioni di volume di gruppo quindi non solo hai incassato 350 dollari ma hai anche 500 punti nel tuo team di sinistra e 300 punti nel tuo team di destra in definitiva fare soldi con Jeunesse è solo questione di diventare attivo per il piano compensi e poi qualificarsi per ricevere quelle commissioni poi naturalmente aiutare il tuo team a fare lo stesso in questo esempio per il fatto che Marco è ora attivo può iniziare l'attività e iscrivere persone in Jeunesse il che lo rende qualificato per ricevere commissioni ora immaginiamo che egli iscriva Sara e Rosa iscrive Sara nel suo team di sinistra e Rosa in quello di destra Sara ordina il pacchetto Supreme da 499 dollari generando 300 CV che sono aggiunti al volume del suo team di sinistra e Rosa ordina il pacchetto Supreme generando altri 300 CV che sono anch'essi aggiunti al volume del tuo team di sinistra Marco riceve il suo bonus di 100 dollari per l'acquisizione di un nuovo cliente per il fatto che Sara ha acquistato il pacchetto Supreme ed altri 100 dollari dal pacchetto Supreme che ha acquistato Rosa e ora è anche lui qualificato per ricevere le commissioni di gruppo e Rachele fa lo stesso lei iscrive Sam che ordina il pacchetto Basic da 199 dollari aggiungendo 100 punti nel suo team di sinistra e inoltre iscrive Emi che acquista il pacchetto Jumbo da 799 dollari aggiungendo altri 400 punti al suo team di destra Rachele riceve anche i suoi 25 dollari del bonus di acquisizione nuovi clienti per il fatto che Sam ha acquistato il pacchetto Basic e anche altri 200 dollari per l'acquisto da parte di Emi del pacchetto Jumbo ed ora anche lei è qualificata così ora ha i volumi commissionabili pari a 1100 CV nella squadra di sinistra e 800 in quella di destra e per il fatto che ha bisogno solo di 300 punti da una parte e 600 dall'altra per essere qualificato per le commissioni di gruppo riceverai 35 dollari ma la parte più interessante è che i punti residui rimasti nel team non scompaiono rimangono nel sistema in attesa che chiunque nel tuo team compri di nuovo prodotti o che presenti nuovi clienti e a quel punto riceverai ulteriori 35 dollari non appena un altro ciclo di 300 e 600 CV sarà raggiunto di nuovo così mentre il tuo team cresce tu riceverai di nuovo il bonus di 35 dollari e poi di nuovo e di nuovo ancora questo può accadere fino a 750 volte a settimana quindi potrai guadagnare fino a 26.250 dollari in soli 7 giorni e questo solo in commissioni di gruppo ma a proposito puoi fare addirittura meglio insegnando al tuo team a promuovere e a fare crescere il loro business puoi anche guadagnare bonus sulle loro vendite di gruppo lascia che ti mostri come questo avviene basandoci sull'esempio di poco fa supponiamo che tu abbia presentato in Jeunesse Marco e Rachele e che tu abbia presentato anche Maria quindi al tuo primo livello avrai Marco, Rachele e Maria e per il fatto che tu li abbia presentati direttamente prenderai un bonus sulla leadership del 20% su qualunque cifra essi guadagnino dalle loro commissioni di gruppo ma certamente quelle tre persone a loro volta ne scriveranno altre questo diventa il tuo secondo livello e tu guadagnerai il 15% anche sulle loro commissioni le persone al tuo secondo livello presenteranno a loro volta altre persone le quali diventeranno il tuo terzo livello e tu guadagnerai il 10% delle loro commissioni di gruppo ed esse presenteranno altre persone che diventeranno il tuo quarto livello e tu guadagnerai il 5% delle loro commissioni di gruppo potrai guadagnare bonus sulla leadership fino al settimo livello di persone del tuo team ma quello che è veramente incredibile è che il numero di persone che puoi introdurre è limitato e che ogni livello può essere esteso e diventare redditizio quanto vuoi prova solo ad immaginare quanto extra potresti guadagnare se tu iscrivessi personalmente 20, 30, 40 o perfino 50 persone come puoi vedere la somma di denaro che puoi guadagnare è quasi inimmaginabile e l'unica cosa che devi fare per far sì che ciò accada è costruire il tuo team e aiutare quelli del tuo team a costruire il loro è una scala per il successo poiché più in alto procederai nel piano compensi più livelli di bonus per la leadership potrai guadagnare ma non è ancora finita qui come suggerisce anche il nome gli incentivi per l'acquisizione clienti sono un grande modo per incoraggiarti ad iniziare ad introdurre clienti in Jeunesse poiché più clienti personali avrai più bonus di leadership potrai guadagnare sugli incaricati da te personalmente iscritti tutto quello che dovrai fare è presentare a Jeunesse 5 clienti al dettaglio preferenziali o all'ingrosso e potrai guadagnare un bonus leadership aggiuntivo del 5% sugli incaricati del tuo primo livello e se tu introduci 10 clienti al dettaglio preferenziali o all'ingrosso potrai guadagnare un 10% aggiuntivo questo significa che potrai guadagnare fino al 30% di bonus leadership su tutti coloro che avrai introdotto personalmente in Jeunesse e allora, riesci a vedere le potenzialità di fare business con Jeunesse? ma c'è ancora un altro modo di fare soldi in Jeunesse l'ultimo modo per guadagnare con Jeunesse è raggiungere la qualifica di Diamond Director una volta raggiunta diventi qualificato per guadagnare delle quote dell'azienda su tutte le vendite mondiali stiamo parlando di molti soldi lascia che ti spieghi come funziona Jeunesse preleva il 3% dal totale del volume commissionabile o punti CV generati ogni trimestre a livello mondiale e li divide tra tutti Diamond Director e la tua quota dipende dal volume che raggiungi come diamante ogni trimestre il bonus per i diamanti sarà calcolato e pagato in base al totale delle quote che avrai guadagnato durante quel periodo e questo può generare per te un grande reddito aggiuntivo ma anche quando raggiungi la qualifica di Diamond Director puoi comunque andare oltre e guadagnare di più infatti puoi andare avanti e arrivare alle qualifiche di Double Diamond Triple Diamond Presidential Diamond Imperial Diamond ed infine Crown Diamond Director consentendoti di guadagnare fino a 1.800.000 dollari in bonus cash ed oltre a tutto questo Jeunesse ti premia ulteriormente per la costruzione del tuo business tramite il Lifestyle Reward Program quando raggiungerai la qualifica di Emerald Director tu e la tua metà insieme ad altri Emerald Director e ai titolari dell'azienda sarete ospiti presso il lussuoso Grand Willier Resort alle Hawaii per 5 giorni di divertimento, sole e relax ed uno speciale training ad un esclusivo evento di sviluppo della leadership ma c'è ancora di meglio quando raggiungerai il livello di Diamond Director tu e la tua metà sarete invitati ad unirvi insieme ai titolari dell'azienda e ad altri Diamond Directors all'annuale Diamond Lifestyle Extravaganza un viaggio di 6 giorni dove potrai goderti i più esclusivi resort 5 stelle del mondo e vivere vere e proprie avventure che ti cambieranno la vita allora? hai visto abbastanza? ti senti entusiasmato di costruire un business full time o part time ed iniziare a guadagnare denaro con prodotti antietà che hanno alle spalle solide basi scientifiche all'avanguardia così come una genuina e unica opportunità di business? se è così è l'ora di iniziare tutto quello che devi fare è acquistare il Virtual Business Kit che ti darà tutto quello che ti serve per iniziare incluso il tuo sito personale Jeunesse il carrello per gli acquisti e l'ufficio virtuale una volta ricevuto tutto questo vai avanti e contatta la persona che ti ha mandato questo video egli ti aiuterà a selezionare il tuo pacchetto iniziale Basic, Supreme, Jumbo o Ambassador che ti attiveranno automaticamente nel business e ti permetteranno di guadagnare con Jeunesse in 6 modi differenti cosa stai aspettando? questa è un'incredibile opportunità per cambiare la tua vita in meglio e raggiungere lo stile di vita e la libertà che hai sempre desiderato agisci subito inizia a costruire un business vero, autentico e redditizio di cui andare veramente fiero www.mesmerism.info 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 Grazie.